La grande esperienza con Margheriti cominciò con i film di fantascienza. Sui giornali cominciavano a apparire delle pubblicità dicendo Spaceman, nessuna scena di questo film è ambientata sulla terra. Lui era il migliore regista di fantascienza in Europa. Antonio Margheriti era uno dei migliori nomi come direttore. Io ho un ricordo straordinario di Antonio, soprattutto per la simpatia. Antonio a modo suo era un outsider nel panorama del cinema italiano. Infatti i suoi film erano sempre più rivolti al mercato estero, più rivolti al mercato americano e anglosassone che non a quell'italiano. Tanto che il nome di Antonio Margheriti, Anthony Dawson, è molto più conosciuto e più famoso all'estero di quanto non sia qui in patria. Antonio Margheriti, was he a fantastic director or was he a good chef? Or was he a good chef because he was a fantastic director or vice versa? 20th Century Fox presents a film that rides with the great westerns. Antonio possedeva quest'arte incredibile di portare avanti un film con una professionalità e una maestria paurosa. Cioè il regista più professionale che abbia mai incontrato. Viveva per il suo lavoro. La sua vita era il lavoro. Era realizzare film. A lot of Italian directors came from special effects. And of course their special effects were amazingly simple and yet fantastically effective. There was no high tech stuff. You know, it was really, it was models, bits of glass, you know, all sorts of things which was really quite incredible. Io amo il film d'avventura. Per me è avventura anche un film dell'orrore. Per me è avventura un po' tutto nei miei film.